Contratti da schifo, pensioni da fame e lo slogan che ha campeggiato a Salerno davanti al Centro Medico Legale Inps in occasione del presidio dell'Unione Sindacale di Base. Un raduno organizzato in vista dello sciopero generale che interesserà tutti i lavoratori del pubblico impiego per l'intera giornata del 17 novembre. Ma l'USB ha in programma anche una protesta in difesa delle pensioni. Praticamente noi siamo il 23 in presidio presso il Ministero dell'Economia e Finanze per far valere le nostre ragioni perché mettono sempre le mani in tasca ai pensionati. Ogni governo che arriva mette sempre le mani in tasca ai pensionati. Un esempio può essere la cosiddetta rivalutazione che devono necessariamente fare per non far perdere il potere di acquisto alle pensioni. L'anno scorso hanno modificato il meccanismo. Prima era un meccanismo tipo l'IRPEF, quindi a scaglioni. Adesso invece è secco, per cui si arriva al punto che le pensioni col tempo potranno perdere il loro valore. Di conseguenza perdendo il loro valore potrebbero diventare pensioni di annata, per le quali sarebbe poi necessaria una norma nuova per poterle effettivamente riportare ad un valore accettabile.